oh rieccovi ragazzi rieccovi ben bentornati su garden warfare 2 siamo qua con un altro episodio e direi che finalmente è giunto il momento che io vi mostri il nuovo cedro visto che lo scorso episodio siamo partiti con la fazione dei zombie e vi ho fatto vedere zombie colazione e questa volta invece spetta al cedro tossico quindi ve lo mostro ve lo mostro qua tutto ve lo mostro al naturale ovviamente senza personalizzarlo visto che è un personaggio nuovo così sì al naturale insomma va più che bene per adesso la personalizzazione non abbiamo a parte l'aspetto l'abilità nella stessa per tutti i cedri possiamo cambiare qualche movimento qua non so perché scegliere perché tanto non ne usiamo mai comunque ok può andare bene migliori e niente perché dobbiamo ancora usarlo possiamo uscire sì guardiamo prima le imprese se abbiamo qualcosa che riguarda il cedro ok abbiamo questa qua che è in fondo che riguarda sì guarda il cedro stordici 25 zombie con la pesca benissimo questo si è multigiocatore multigiocatore ok soldati qua che abbiamo ok può andare bene così interei di andare subito senza perdere altro tempo e sperare anche di finire nella mappa zombopolis ovviamente quindi andiamo cambiamo regione supremazia siamo pronti ok eccoci qua siamo sì siamo cose a fazioni piene stiamo attaccando quindi perfetto direi penso che con il cedro meglio attaccare piuttosto che dico se è bravo un po' a tutte e due comunque piccola premessa visto che con questo personaggio parto dall'inizio ancora non so come usarlo e come come gestirlo lo impareremo insomma man mano che giochiamo senza alcun problema ecco ok abbiamo già conquistato sì all'inizio forse perché dovevano ancora un'area non so se abbiamo una rosa vorrei di andare per di qua a vedere facciamo una prova con questi colpi ok abbastanza veloci oh c'è gente qua ok aspetta che ti rianima amico aspetta aspetta ma ecco anche la rosa nooo perché vediamo quelli c- ok l'uccellaccio preso stiamo conquistando la grande bene prima uccisione mettiamo questa in mezzo e facciamo anche abbastanza direi danni consistenti a livello 2 e chiedi chiedi amico oh che succede mi ero messo davanti a questo oh andiamo così andiamo così che fa questo qua ok conquistato pure questa una fazione nemica sembra di sorpresa oh si vinto io ha vinto il nuovo cedro contro il zonco l'azione nooo perfetto perfetto mi piace come inizio vada rosa seguiamola dov'è l'uccellaccio preso no no non l'ho preso io va lo stesso va lo stesso ma cosa sta va a scatti però mica io non credo vediamo che abbiamo qua un paio di personaggi niente male chiedata chiedata presa oh serie eliminazioni per 8 me lo ho reso conto zombolino perché lui è quello più ma chi è la smetti questo pappagallo perfetto c'è stato fuori no 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 sta venendo qua pochino pochino no no perchè perchè con 15% è rimasto ecco è morto col telefono in mano come con l'altro vediamo un buon angolo da qua credo qualcosa sì ma poco chi ce l'ha in mezzo non si sa viene qua quest'ingegnere perfetto cosa fanno sti zombolini ok ok ho capito che non siamo sicuro qua ci hanno spottato aspetta 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 dai dammi il tempo dammi il tempo sta venendo qua di nuovo l'ingegnere chieda perchè l'abbiamo fatto fuori oh ecco no no oh questo coso prendiamo qualcuno lo vede lo vedo solo io eh l'ho preso sempre io stanno boccando l'avanzata qua che amico erano in troppi no grazie 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 no cacchio levatevi ma dai perché ci raggruppiamo tutti la insieme eh siamo partiti tutti così all'inizio alla grande adesso siamo fermati così va questo ok hai preso dov'è dov'è grazie grazie cedro quel tizio che è venuto alle spalle lento ciccione questo cedro ah si numero decisioni eravamo mesi bene però abbiamo perso ah peccato siamo sul podio sempre con i soliti assist ormai dovrebbero mettere tra parentesi vicino là ma gli assist il nostro nome ormai è diventato una regola ok siamo sempre qua facciamo un altro tentativo di avanzata con quest'altra fazione sei qua rosa ci aspettano che fanno non si sa tanto avanziamo facciamo crescere qualche pianta qua dov'è la rosa sparita bah ah no eccolo sta arrivando un mecco mecco ok non viene più già due e mezzo teniamo le distanze controlliamo la zona da qua perfetto togliti che ti sei messa davanti sta pianta questi zombolini che sono più agili del di una mosca chi è amico togliti con la tua puzzola ecco di nuovo l'uccellaccio pirata pirata grande girasole ma che è successo ok non ho capito ah ha preso il cono mico guarda dove calpesti il prato grande così chi è guarda quello che sta sul tetto ho stordito vai cedro vai cedro andiamo così livello 5 di già benissimo te sul tetto non mi piace bello ok prendi il pirata ma che è successo ahhh zpg certe persone sono molto precise con questo trucco riecco il nostro compagno è ritornato dallo scorso episodio ooo ok non mi piace oh scende 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 Tutti una brutta fine. Ah no? Tutto lo zombolino. L'ho mancato miseramente. Grande volo. Palla da basket. Ehi, che ci fai qua tutto solo? Hai fame, amico? Ok, abbiamo fatto una cilecca con quella pesca. Che ho due mech qua. Oh, 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 oh. Mi ha seguito. Eh, ragazzi, non blocchiamoci sempre qua. Dove è la rosa? No, non è. Sto dall'altra parte, credo. Ecco. Ho scelto te la rosa. Ah, qua. Ehi, io tolho e ti che non vedo. di prepotenza andiamo andiamo chi c'è a a a a a Abbiamo tutta la fazione qua Vedisco per quale motivo questi avanzano Tanto, invece di stare alla propria base Edgio per voi Livello 6 Alla faccia vostra, zombie Una spremuta di limone Fresco fresco Scusate Capra Ok Vai vai che l'ho stordito amico Andiamo così Alla grande Che fa quello? Sti soldati sempre in cima Alle cose stanno Per otto Perfetto Togliettevi Perché siamo tutti qua insieme? Ecco Quello che succede quando Siamo in 20 Per 10 Ah grazie Sì grazie Grazie Ha annulato la serie Quel soldato Dannato soldato Mi vendicherò Cacchio Cacchio Stanno difendendo molto bene Per nostra sfortuna Per nostra sfortuna Ho molti zombolini Di occupazione Questa Che fare Che fare Ah il mech Mi ha sfondato Ok Stiamo conquistando A quanto pare Abbiamo dei problemi Con questi mech Sono tosti a morire Oh ci siamo Stiamo conquistando Che succede? E' ho perso Mamma mia Eravamo in 20 Là in mezzo Si capiva niente Eh niente Quanto pare Non riusciamo Ad avanzare Nessun modo Tuttavia Facciamo comunque La differenza Con questo cedro Quindi non ci possiamo Non ci possiamo di che lamentare Ok Sì Fino adesso Siamo stati sempre In attacco Con poca fortuna Chi c'è la Che c'è la Zombolino Qua sta feste Sì 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 il portale deve essere là sulla destra Amico Amico dove guardi Qua sulla destra Vedi che c'è casino qua Quanto ci mette questo a schiattare Oh nooo Ah Stanno spingendo Questi Quando Quando è così Non mi piace proprio Andiamo così Aspetta nooo Sta venendo qua Questo Basta te Mamma mia Questi Non la smettono La smetti te Levati Ci credo Dai però Facciamo qualcosa Sulla destra I zombolini Fastidiosi Eccolo qua Togliti Togliti Bello Quello non la smette Proprio E diamo una bella Ah no L'ha ricevuta La lezione Eccolo 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 Come ha fatto Ah Il cannone Capitano cannone Vecchia conoscenza Dai 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 Siamo qua Ancora Ma Tutti a me Noi non ci credo Noi non ci abbiamo Il portale Aperto Andiamo Andiamo Eccolo Eccolo Stali Fermo Il draghetto Che dito Nelle Chiappone Calma Calma La macchina Accalmata Vedo niente Sto mirando solo Alla figura Ma non vedo niente Perché il cetro copre La visual Bene Ne abbiamo conquistato Fantastico E Siamo Morti Non stare fermo Sì Non so che Di sapore Questo Questa serie Di zombolini Che faccio fuori Andiamo ragazzi Andiamo Grande gioco Di squadra C'è qua C'è lo scienziato Il draghetto Come si muove Oh Pazzito Ah Ho la sensazione Che dove vado Dove vada io Mi riporti dietro Tutta la fazione Nemica Non capisco Sarà perché Là sta Il portale Ma intanto Non conquistiamo Ben niente In alto Là in alto E' una zombolina Ma dai Ma dai però E si Non c'è che dire Quello L'ho visto L'ho visto A mezz'aria E' una zombolina Bene, abbiamo calmato le acque Direi di sì, ma un po' tardi Mi ha fatto perdere abbastanza tempo questi Dai, mi ha anticipato la mossa questo Meno di un minuto Meno di un minuto Meno di un minuto Meno di un minuto Male, male, non mi piace Tutto con la puzzola, nooo Abbiamo conquistato Andiamo così Prendilo, prendilo Ok Andiamo, andiamo Senza perdere altro tempo qua Questo sta ancora scappando Ahah Ma dove spara quello Grazie Grazie Chi ha sparato? Da dove? Mek Mek, mek E' riuscito a uscire quel tizio Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Oh no! 0-9 Chi è? Questo Carol È dappertutto 1-4 sto Non era Carol quello Ecco è questo Carol Ok schiattato Come si muove Non riesco a vederlo Oh Ari eccoti Ok quella non ho capito Perché l'ho avanciata Ero spaventato ok Non giudicatevi Oh 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 Cos'è questa Una ballata Sto tizio Nooo guarda guanti mech Non ce la facciamo Non ce la facciamo Non ce la facciamo E chi è? Sto io me li trovo sempre dietro Niente da fare Abbiamo perso pure qua Eh vabbè Soliti assist Ormai possiamo scommettere su questi assist Compriamo di questi E andiamo a promuovere Il cedro Oh grande Squalo urbano leggendario Mi aspettavo un pezzo del personaggio Bene anche così Torniamo al cortina Grande pezzo leggendario Ecco Avete assistito anche a questo Fortunati Fortunati In pezzi leggendari Oggi Ma non nel gioco Andiamo dal pesce Perché tanto abbiamo 200 stelle Non so dove E come usarle Lo usiamo solo per quel pesce Ok Per poco Non facevamo anche Quell'impresa 24 su 25 Vediamo dov'è Sta qua il cedro Ok ragazzi Questo Questo è stato Cedro Cedro tossico A voi insomma Il giudizio di Su questo nuovo personaggio E come al solito Mi dispiace Che le nostre speranze Di giocare Nella nuova mappa Non siano state Diciamo Concretizzate Però Abbiamo molti altri Episodi davanti a noi Quindi non trasformiamo Certo questi due episodi In una tragedia Detto questo Grazie ancora Per il vostro supporto Per essere rimasti Fino alla fine Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti E vi do appuntamento Al prossimo video Un saluto Bella